«Questo sguardo, questi occhi che aveva, queste sopracciglia, questa presenza che aveva…» «Un talento, un talento…». «Era bravo, perché era assurdo». «Era un uomo di altri tempi». Una piccola colonna del cinema comico italiano. Tiberio Ettore era un ciocco tremendo, nel senso che era totalmente incapace di recitare. Non dava confidenza. Simpatico. Divertente e pazzo. Tiberio aveva un pallino, un pallino incredibile. Era un Don Giovanni, un Don Giovanni di quelli spietati. Il personaggio che io facevo nel cinema, lui era nella vita. Poi serta bene.